Ben trovati a tutti i telespettatori delle Nicosia, queste le inizie flash provinciali del 15 gennaio curate dalla nostra redazione. Nicosia nella mattina del 12 gennaio i carabini della compagnia e del corpo forestale regionale di Enna hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio per verificare eventuali violazioni in materia ambientale. Il controllo con la collaborazione del personale del corpo forestale regionale nucleo operativo provinciale di Enna ha interessato un grosso impianto per la produzione di calcestrusso situato in un'area di circa 2000 metri quadri, incontrata fegotto a Nicosia. Gli agenti della forestale di militare dell'arma nel corso della verifica hanno riscontrato la mancanza di specifici permessi e delle licenze idonee per consentire il deposito di inerti per la successiva formazione di conglomerati utilizzati solitamente per manufatti edili e stradali. È stato sequestrato l'impianto e contestate violazioni penali e amministrative per oltre 3.000 euro. Il gestore, un 44 anni di Nicosia, è stato deferito all'autorità giudiziaria e dovrà rispondere del reato di mancata autorizzazione per la gestione di un impianto di calcestruzzo previsto dal decreto legislativo 152 del 2006, oltre ai reati di natura urbanistica. Enna diventerà senz'altro una sentenza che farà giurisprudenza a quella emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Enna il 18 dicembre 2014, un provvedimento che ha reso nullo un avviso di accertamento per difetto di legittimazione attiva in violazione dell'articolo 42 del DPR 600 del 73, in quanto il fisco non ha dimostrato in giudizio che il funzionario che firmò l'avviso era delegato dal direttore dell'ufficio. La controversia nasceva da un accertamento fiscale che veniva tempestivamente impugnato dinnanzi ai giudici tributari, eccependo tra i vari motivi il difetto di legittimazione attiva per violazione dell'articolo 42 del DPR 673. L'ufficio finanziario resisteva in giudizio e chiedeva inoltre la condanna del ricorrente alle spese di giudizio. Il giudice tributario Ennesi, aderendo a quanto stabilito dalla Cassazione Tributaria, ha sancito che in presenza di specifica contestazione di parte, l'agenzia avrebbe dovuto produrre in giudizio la delega conferita al capo Tim, cosa che non è avvenuta. Da qui l'annullamento dell'accertamento e la condanna per l'agenzia delle entrate di Ennesi al pagamento di 700 euro in favore del ricorrente per le spese di giudizio. Nicosia, il Movimento per la Difesa dei Territori, scrive al senatore Maurizio Buccarella del Movimento 5 Stelle, nonché vicepresidente della Commissione Giustizia del Senato, inviandogli anche un corposo dossier riguardante il salvataggio della Corte d'Appello di Caltanissetta attraverso il suo ampliamento con la nascita del Tribunale di Montagna, che di fatto riaprirebbe il Tribunale di Nicosia, facendolo diventare il quarto presidio di giustizia del distretto d'Appello. Il disegno di legge del Governo sembrava andare verso questa direzione, ma in Parlamento prevale l'ipotesi di lasciare una Corte d'Appello per ogni regione in Sicilia chiuderebbero le sedi di Catane, Caltanissetta e Messina, creando un ulteriore caos dopo che la riforma sulla geografia giudiziaria aveva portato alla chiusura di tribunali e sedi distaccate. Troina ha affidato ad un professionista l'incarico per effettuare nel territorio comunale la misurazione dei campi elettrici e magnetici del gas rado nella radiazione del piano di zonizzazione acustica. L'iniziativa intrapresa dall'amministrazione di seguire delle rilevazioni relative al rilevamento di un potenziale inquinamento elettromagnetico e di una presunta radioattività del territorio nasce dall'obiettivo di perseguire una politica ambientale che tuteli il cittadino e la salute pubblica. Da tempo, ha spiegato il sindaco Fabio Venezia, vi è una preoccupazione diffusa e condivisa da parte di un'ampia fascia di popolazione circa la presenza nel territorio comunale di fattori a rischio contaminante. Al fine di monitorare l'inquinamento ambientale e tutelare la salute dei nostri cittadini, abbiamo ritenuto opportuno effettuare un apposito monitoraggio dei vari quartieri e punti a rischio per rilevarne eventuali presenze o scongiurarne l'esistenza. Dico sia la terza edizione di Fotografie di donne, un evento creato da Cristina Russo, cantante siciliano impegnato oggi nell'ambito di un evento artistico-culturale al 360 gradi per dire no alla violenza sulle donne. La mostra dei quadri delle partecipanti presentata dal grande fotografo siciliano Eugenio Ligolsi, qualificato a livello europeo QEP per il wedding unico per tutta la provincia di Enna, allestirà l'androne comunale di Nicosia in piazza Garibaldi giorno 1 febbraio 2015. Alle ore 17 all'interno dell'evento ci saranno tante sorprese, primo fra tutti lo stesso concerto di Cristina Russo. È stata coinvolta poi la comunità locale pensando a quello che è l'arte nella provincia di Enna, soprattutto nella ridente comunità di Nicosia che ospita l'evento, con l'appoggio di tanti artisti in ogni ambito performativo. È rappresentato un corto a tema della giovane regista siciliana Clelia Parisi, la presentazione del libro di Laura Maccarrone, un intervento musicale della Band & Theos Moss, tante le associazioni locali che sosterranno l'evento con la loro presenza e di loro banchetti. Parte del ricavato, proveniente dalla vendita di vari articoli presenti, verrà donato all'associazione Onlus Demetra, che lotta contro chi fa violenza ai più deboli, donne e bambini. E con questo abbiamo concluso l'appuntamento alla prossima edizione delle notizie flash curate dalla redazione di Telenicosia per approfondimenti sulle notizie. Vi rimandiamo al sito www.telenicosia.it per le vostre segnalazioni, potete scrivere la redazione chiocciola.telenicosia.it. Un saluto da Sergio Leonardi. Grazie a tutti.